Prima o poi il passato ci presenta il conto, le ferite che speravi rimarginate tornano a far male, agli errori di ieri si sommano quelli di oggi e si resta in bilico tra il passato e il futuro. Sono Leonardo Cagliostro, sono un poliziotto e sono morto. Sono rimasto qui, tra i vivi, per trovare il mio assassino ed impedire che uccidessi ancora. Ma ora che ho concluso la mia missione, ora che potrei andare per sempre, qualcosa me lo impedisce. Una minaccia incombe sul futuro di mia figlia. Ho bisogno di aiuto, ma nessuno può darmelo, tranne Vanessa, l'unica che mi vede e mi sente. Devo restare, perché per me la fine non esiste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.